Tutti in campo di domenica alle 14.30, eccezione fatta per il posticipo tra Catanzaro e Catania delle 21 di lunedì. Quasi un inedito nel calcio spezzatino di C con sei pugliesi e due lucane in scena in assoluta contemporaneità. Con il Bari che attende la Paganese e la Fidelisandria a caccia della prima vittoria a campo basso, la copertina è per il derby tra Virtus Francaville e Monopoli. Alla nuova arredo arena sono a confronto i bianco celesti di Roberto Taurino che non conoscono mezze misure, due vittorie e due cappos in cui recuperano in attacco Perez e i biancoverdi dell'ex Virtus Alberto Colombo in vetta al girone alla pari con il Bari ai nastri di partenza del quinto turno e sin qui imbattuti. Di estremo interesse anche il match dello Zaccheria. Il Foggia di Zeman dopo l'amaro pareggio in extremis incassato a Latina ospita una Juve Stabia che lo precede di un punto in classifica a quota 6, sfida generazionale in panchina con i 74 anni del boemo opposti ai 68 di Walter Novellino nel confronto tra i due allenatori più esperti dell'intero girone C. Riscatto e la parola d'ordine anche in casa Taranto, il team di La Terza che ha perso Diabì per infortunio torna allo Iacovone dopo il K.O. di Pagani. Di fronte un Latina a quota 5 punti, meno 2 da Giovinco e compagni. Trovata la prima vittoria in campionato contro la Turris, il Picerno cerca invece conferme al Viviani dove arriva il Messina appagliato al team di palo con 5 punti. Ne ha due in meno il Potenza impegnato ad Avellino in una sfida tra due formazioni ancora a caccia del primo successo nella competizione.